oi si è rotto ciao mi sembra che la pizza è pronta buonissima hanno suonato arrivo subito sto arrivando ciao gru qual è il problema tutto è iniziato quando stavo trasportando degli animali oi si è rotto oh si è rotto ho capito tutto sono sicuro che hai un problema al braccio bene questo è il mio pranzo continuerò a mangiare dopo mmm che profumino guai se la tocchi è la mia pizza adesso ci serve l'avvitatore e adesso lubrifichiamo anche qui è necessario lubrificare beh direi che ci siamo controlla le gabbie grazie del suggerimento mi sa che ci vuole un po' di olio anche qui adesso controlliamo bene non fa più rumore evviva abbiamo sistemato anche la gabbia cos'è sto rumore e tu vai via di qui vai via e qua è Leo oh che facciamo adesso riccardo riccardo prendi un pezzo di carne e usalo come esca ottima idea guarda leoncino cos'ho per te un pezzo di carne buonissimo vieni leoncino vieni avvicinati guarda ah ah preso adesso ti prendo grazie sei stato gentilissimo adesso vado allo zoo a portare il leone ciao 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 Gru torna presto oh finalmente si mangia si è raffreddata la mia pizza vabbè non fa niente ciao ciao